e benvenuti ragazzi sono cd7 e oggi vi do il benissimo episodio di forza night altro episodio di forza si poi se stop stop le news di forza night io vabbè poi si continuano a bene ok però devo continuare la mia serie di minecraft che ho che non ho più memoria quindi devo svuotare la memoria di forza night e poi poi si continuano così scomani perché tutto cominciamo sono due news ora il forza night blood sport 4 8 ma 21 del team di forza con blu sport superman ai gio a superman che ai giorni contatti in un'occasione dell'arrivo dell'uovo ad acciaio nel parto del capitolo 7 la sua nemesi e poi da fare il primo passo in forza ottene l'assassino e abiliato da scelto stasera negozio oggetti stasera questa seace blood sport stasera qui non so quando non so allora io penso che boh non so non so quando 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 ok forse certo da oggi da oggi alle 17 fino a stanotte fino alle ore zero non lo so comunque guarda che meglio vuole come se blood sport e il decorativo esemplare di star con tanto il ratto che ha scelto lo zaino come sua nuova casa otterrà anche quattro spray arley fiorente sono supereroe qui ps maker e è uno squalo disponibili separatamente anche il biccone spada argus e la copertura blu sport mimetica per completare il lucro sport anche arle queen anche arle qui in mamma non mamma entra in mischia a fianco di blu sport i giocatori che possiedono già le queen e nascita ritiranno un aggiornamento automatico del loro ammaiato con il nuovo stile di arle queen guardato è arley queen o arley no arley queen mamma non mamma quella che c'è niente ma se qua aggiungi subito questi costumi e oggetti alla tua squadra the suicide squad and all related character and element dice il suicidio della squadra ok non solo l'ultima è forte presenta il retturo con arena grande ma tu che c'è da scusa sì l'hanno l'hanno messo così quello lo continuano dal sì l'ho detto l'altra volta su forte nel senso sbaglio sì questo qui mi ricordo lo giuro che sia anche il video mi ricordo che c'era come dei caricati del gioco poco di questo ci sarà tra qualche giorno sì le gui mi ricordo mi ricorda che questo qua non ho letto ragazzi gift tour avvise ai creatori di contenuti vabbè se questo qui l'ho fatto anche questo però meno che lo leggo perché non ricordo i miei motivi del programma supporto cattore s su su ci supporteranno potremmo solare dei contenuti del futuro su youtube i contenuti che non avranno restrizioni di monetizzazione su youtube per sette giorni nessuna notifica di rimozione dovrebbe in seguito altre informazioni e poter monetizzare contenuti del futuro su membri di su su ci dovranno collegare il nostro supporto cattore da che devono collegare il loro il loro account youtube e il supporto in catore importante quando carichi i contenuti dei rettorsi su youtube sicurati di impostare su non in elenco o pubblico si carichi il video come privato potresti ricevere un reclamo di monetizzazione sul tuo video per caricare contenuti su altre piattaforme consulti regolarmente la piattaforma del che tu cani per suggerimenti su come evitare reclami per violazione del copyright non per parte di supporto cattore niente paura non per parte di supporto a un catore niente paura puoi ancora condividere i suoi momenti mostri lenti del rift tour ma non potremmo iniziare questi contenuti su youtube nota per il creatore su Twitch che trasmette il rift tour in streaming non possiamo impedire che la diretta streaming o il vod clip finita segnalato dai sistemi di rivelazione copia della piattaforma in generale consigliamo di esattivare l'audio del vostro vod o di esattivare completamente vod clip per potercivi al meglio dei reclami ed emozioni per più informazioni consulta questo post di Twitch sui reclami copyright dei contenuti musicali c'è anche un noi è inglese quindi perché se lo il tv sto dicendo ci vediamo al rift tour ragazzi io come sempre spero che aggiorniamo ma penso che non ci senti nuovo infatti così per questo video vi è piaciuto se vi è piaciuto ragazzi mi ricordate un bel mi piace commentate condivite i suoi canali la campagna commentate poi se puoi mi raccomando seguiti i suoi secondi o c'è la cd da basso il cd da basso oficialmente ragazzi ma come c'è il vostro cd 17 è tutto bella ragazzoli ciao